Grazie a tutti Ma voi l'ultima volta quando l'avete visto? Mi avvisci un caffetto? È possibile individuare gli eventi indesiderati? No, io sono molto impegnato in questo momento. Non posso rispondere. Non posso parlare. Drago. Ma te fatti a punta. Ho fatto il classico. Sono poeta. Ovidio, Plutarco, latino, greco, capito? Anche nel modo di vestire è più classico. Fumo del onda. Ciao, io sono un senso. Ok, baby. Adesso dispa. The fuck are you looking at? È arrivato il momento di farmi capire di chi siamo. Qualcuno va a tener pagare. Benvenuta, dottoressa. Che? Benvenuta, dottoressa. 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 Il polso deve essere sciolto in questo modo Stiamo parlando di freccette Lei gioca a freccette? Sì, perché vessato a 75 Sono io Ma che cosa dobbiamo scappare? La quale è colpa? La quale è colpa?